Buonasera, benvenuti a tutti a questa straordinaria minonga di questo sabato primaverile, l'estate alle porte e si comincia a sentire nell'aria. Buonasera, benvenuti a tutti, c'è tanta gente che è venuta da fuori, vi saluto tutti calorosamente, tutti quanti, la gente di qui che sempre ci sostiene, è la gente che è venuta da Napoli, da fuori regione, c'è tanta gente che è venuta da fuori, saluto tutti quelli che sono venuti da fuori, adesso non me li ricordo tutti. Bene, vi abbiamo comunicato un cambio di location a distanza di qualche giorno, purtroppo ce l'hanno comunicato a noi e abbiamo dovuto trovare una soluzione nell'immediato, però va bene, stiamo vicini, vicini, così facciamo conoscenza, stiamo... ed è anche più facile invitare così, come nelle minonghe di Buenos Aires. Va bene, bando alle ciance, che cosa volete voi, che cosa volete che faccio adesso? Tu niente, basta, basta, ritirati. Tutto qui, volevo soltanto ringraziarvi, salutarvi e magari, che ne so, se facciamo un apposso fragoroso, vi posso presentare due straordinari bambini, due grandi maestri, Sebastiano Azale, Roxana Suárez. Aplausos Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.